Ciao amici e bentornati sul canale. In questo nuovo video andremo a vedere in che modo sostituire una molla per puleggia di una serranda avvolgibile di un garage. Può capitare infatti come in questo caso che dopo alcuni anni di utilizzo può spezzarsi all'interno impedendo quindi l'apertura e la chiusura della serranda stessa. Quindi dopo averla rimossa dalla puleggia tirandola semplicemente fuori verso l'esterno. Si infila un'estremità della nuova molla che presenta il foro facendola entrare dalla parte inferiore della puleggia e la si fa combaciare con il foro della stessa con quello dell'asse in questo modo. Si avvita con una vite che generalmente hanno un diametro m8 e con testa esagonale. A questo punto si comincia ad avvolgere la puleggia in senso orario per far entrare tutta la molla per la sua intera lunghezza all'interno della puleggia stessa. con un po' di pazienza si continua fino ad agganciare l'altra estremità ad una traversa della puleggia. Ora si inizia a tensionare la molla e tramite due leve come queste si continua a girare sempre in senso orario la puleggia stando molto attenti in questa operazione a non far scivolare le leve altrimenti bisognerà ricominciare. Consiglio anche di non stare frontali durante questa operazione ma di tenersi laterali rispetto alla puleggia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Completate i giri necessari della puleggia affinché la molla sia tensionata nel modo corretto e questi giri variano in base alla lunghezza della molla quindi quando smontate quella vecchia è bene misurarla per tutta la sua lunghezza compreso il pezzo rotto. Si prende poi la staffa che aggancia alla serranda e la si aggancia alla traversa della puleggia in questo modo. Grazie a tutti. A questo punto non rimane che fare una prova e tirare su e poi riabbassare completamente la serranda per vedere se tutto funziona correttamente. E come si può vedere il lavoro è andato a buon fine ed anche per questo video è tutto e se lo avete trovato di vostro interesse e gradimento lasciate un like e un commento iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati che per voi è gratuito e per me è di grande aiuto e stimolo per la crescita del canale e la creazione di nuovi video. Un saluto da Frank ciao e alla prossima